E se la prossima stella nascente della Nazionale Italiana fosse un talento di proprietà dell'Inter? Il città della Nazionale Italiana Roberto Mancini è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ad un certo punto il giornalista gli ha chiesto di fare dei nomi interessanti che si sono messi in mostra durante l'ultimo stage a Coverciano a dicembre. Tra i vari nomi, Mancini si è soffermato in particolare su Gaetano Oristanio. Classe 2002 è un trequartista di proprietà dell'Inter ma che gioca in prestito ormai da un anno e mezzo al Volendam in Olanda. Piede Mancino, buone qualità, bravissimo nel dribbling. Mancini ha detto A giugno era indietro ma in sei mesi giocando titolare in Olanda è migliorato tanto. Occhio allora perché Mancini di talenti se ne intende. E non si fa troppi problemi a lanciarli anche quando non hanno grande esperienza. Per altre storie e notizie sull'Inter iscriviti al canale.